Weekend di criminalità nel Foggiano. Due persone incappucciate, una pistola, un uomo e un orologio di valore. Sono questi gli ingredienti della storia di criminalità e degrado che si è consumata nella città di Foggia. I malviventi, infatti, arrivati in tarda serata presso un locale di Corso Giannone, non hanno esitato un attimo a tirare fuori l'arma da fuoco per minacciare la vittima. I due hanno intimato al soggetto di consegnargli l'orologio che aveva al polso, ricorrendo alla violenza per raggiungere il proprio obiettivo. Infatti, il proprietario dell'orologio e titolare dell'attività in cui si è svolta la rapina è stato subito aggredito con dei pugni in faccia, avendola peggio e vedendosi sottratto il bene prezioso indossato. A soccorrere la vittima, a rapina e aggressione compiuta, alcuni passanti che, vedendo l'uomo in stato di forte shock, hanno avvisato la polizia. Una questione, quella della sicurezza nel Foggiano, che diventa sempre più dirimente nell'agenda politica di tutte le istituzioni. Fa paura la sensazione di insicurezza che si vive in città e fanno paura gli impietosi numeri relativi ai reati commessi e alla qualità della vita in città e provincia. Anche la provincia di Foggia, infatti, non sfugge alla morsa della criminalità. È stato arrestato a Cerignola, un diciottenne, accusato di essere l'autore di una rapina avvenuta tre mesi fa ai danni di un ristorante giapponese. Ad incastrare il baby criminale le telecamere di sorveglianza presenti in zona. La vittima, secondo quanto verificato dalla polizia, venne colpita al capo con un grosso oggetto metallico. Si parla del calcio di una pistola o una chiave inglese, e poi derubata del borsello personale che conteneva l'incasso della serata, il telefono cellulare ed un blocchetto di assegni in bianco. La pistola, posseduta dal giovane, si è scoperta infine essere a salve, un blef. Il fenomeno della criminalità, invece, è terribilmente realistico ed attuale.